Goose è un Salesforce Automation, personalizzabile e integrabile con il proprio gestionale, in grado di lavorare su qualsiasi dispositivo e anche offline, il che lo rende uno strumento ideale da consegnare alla propria forza vendita. Su www.gooseapp.com tutte le informazioni sull'app e sulla nostra offerta. Da supporto si entrerà in diretto contatto con l'assistenza tecnica via ticket e sarà possibile richiedere anche interventi di customizzazione. Goose è infatti adattabile a qualsiasi realtà lavorativa e il nostro team di supporto è a disposizione per un contatto diretto o per fornire dell'assistenza. Oltre alla documentazione che con il suo menu navigabile offre, teledemo, testimonianze e video tutorial, la chat sul sito e in app potrà rispondere in tempo reale a qualsiasi dubbio e domanda su Goose. Su prezzi si potrà scegliere il piano di abbonamento in base alle proprie esigenze. Scegliendo Plus o Enterprise, il proprio sistema potrà essere integrato con gestionali o altri sistemi terzi via API o grazie al nostro software il Google Connector. Sono già disponibili integrazioni con Google Maps, Google Calendar, fatture in cloud, MailChimp e Freshdesk. L'agente potrà scaricare Goose dagli store o dalla sezione installi e accedi, inserire le sue credenziali e accedere in app. Qui lavorerà nel suo ambiente personale e l'amministratore potrà decidere i ruoli e i permessi che avrà al suo interno dalla sezione agenti-utenti del menu laterale. La navigazione e l'utilizzo di questa interfaccia del proprio sistema aziendale è semplice e intuitiva, azzerando così l'eventuale formazione della propria forza vendita. Sarà possibile gestire, geolocalizzare, classificare potenziali, clienti, fornitori, mandanti e persone fisiche. Gestire i calendari. Il proprio girovisite. E dalla sezione prodotti e servizi, classificare e gestire il proprio catalogo. Dalla sezione documenti si potrà creare e gestire, dai preventivi alle fatture elettroniche. La sezione report, invece, offrirà una prima panoramica della nostra attività lavorativa. Per finire, tabelle generali per gestire in libertà parametri e selettori dell'app. Questo e molto altro, tutto in un'unica app.